Professore, quali sono gli aspetti più critici in termini di impatto, diciamo, di problemi della spesa sanitaria che emergono da questo compendio SIC di questa nuova edizione? Sicuramente il compendio SIC fa sì che emergano degli aspetti molto importanti collegati alla spesa sanitaria. Il primo aspetto è sicuramente che noi spendiamo meno degli altri paesi, però questo non vuol dire che non possiamo adottare delle soluzioni che possano risolvere il problema. Andando un po' più nel dettaglio, sicuramente dai dati del SIC Sanità continuano ad emergere due dati importantissimi. Il primo è l'incremento della spesa out of pocket a carico ai cittadini e il secondo è l'incremento della spesa per quanto riguarda beni e servizi che non interessano direttamente l'assistenza sanitaria. Per quanto riguarda quella prima voce, quella relativa alla spesa out of pocket dei cittadini, si vede che c'è un trend in crescita che è conseguenza del fatto che alcuni esami, alcuni farmaci, alcuni interventi sanitari prevedono una quota di compartecipazione ai cittadini che a volte è anche abbastanza elevata. Anche perché si va per categorie di reddito, le esenzioni funzionano, ma sappiamo che ormai le categorie di reddito medio-basse devono affrontare tutta un'altra serie di spese e quindi il cittadino spesso e volentieri rinuncia a sopportare questa spesa in compartecipazione e a quel punto però rinunciando a questa spesa in compartecipazione non si cura in maniera adeguata e questo quindi poi va a determinare anche un peggioramento del suo stato di salute. Dall'altra parte magari rinunciando anche a pagare in tasca propria per la compartecipazione alla spesa rischia anche di essere meno aderente alla terapia e la mancata aderenza alla terapia genera uno spreco di risorse per il sistema, è proprio una perdita secca per il sistema da una parte e dall'altra parte nuovamente fa sì che il paziente non segua la terapia adeguata e questo quindi gli va a creare dei grossi problemi in termini anche di peggioramento dello stato di salute. Con a cascata quindi un incremento della spesa anche per la spesa sociale e anche per la spesa previdenziale. La seconda voce di spesa che abbiamo visto che dovrebbe essere monitorata maggiormente il SIC Sanità insieme alle due istituzioni universitarie con cui collabora la stanno monitorando ormai dal 2008. Sono appunto la spesa per beni e servizi che nulla hanno a che vedere con l'assistenza sanitaria diretta. Cerco di spiegarmi meglio mensa, lavanderia, gestione rifiuti, spesa per pulizie e quant'altro. Se noi andiamo ad analizzare queste voci di spesa rappresentano tra il 4 e il 5% del totale della spesa sanitaria prese tutte insieme queste voci di spesa però queste voci di spesa sono incrementate e incrementano di anno in anno, aumentano di anno in anno ingiustificatamente. Tra l'altro voglio sottolineare e chiudere che in questi ultimi anni abbiamo sempre monitorato queste voci di spesa e abbiamo verificato che si genera uno spreco calcolato come un valore al di sopra della mediana del costo della singola prestazione che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro se andiamo a prendere le ASL e le aziende ospedaliere. Quindi andando ad analizzare i conti economici delle ASL e delle aziende ospedaliere. Credo che, quindi sommando questo problema delle voci per beni e servizi che nulla hanno a che fare con l'assistenza sanitaria e che generano sprechi tra il miliardo e il mezzo e i 2 miliardi di euro ogni anno, concentrando maggiormente l'attenzione all'aderenza alla terapia che è un annoso problema che abbiamo nel nostro paese superiore rispetto a quello degli altri paesi europei, sicuramente questo potrà permettere di trovare risorse aggiuntive immediate, anzi libererà delle risorse per andare a finanziare quei beni e servizi e quei servizi di assistenza sanitaria all'interno dei LEA che oggi, ahimè, in parte sono carenti nonostante i grossi sforzi che si stanno facendo, soprattutto a livello centrale per far sì che vengano garantiti ai cittadini.